Oh mio Dio l'ho preso, il missile a ricerca funziona più che bene, eccolo che va giù lo time to death Ed è passato un po', ma sono un po' di rinvistimissimi Stai facendo il momento di questo nuovo video, sono Tex, oggi siamo qui su una nuova serie barra video barra culo Gioco su GTA V signori, oggi andremo a fare una cosa abbastanza ignorante No, non è online, poi appena riusciremo a mettere l'online, io a Marquez giocheremo insieme, c'è anche lui in chiamata, saluta Saluta Antonio Chi? Te Sta facendo esplodere un jet, ci sto quasi, un colpo, un missile Allora, e oggi noi andremo a invadere Forza Ancura con questo bolide, questo è il nostro bolide, consigliato da lui È il P996 laser, ci sta, tipo molto swag E niente, come dicevo appena riusciremo a mettere l'online faremo un bordello di live su GTA Perché ci stanno i live su GTA Adesso direi che possiamo iniziare a fare un po' di bordello Saliamo sul nostro bolide Mettiamo il waypoint su Forte Zanculo Che è qua Ok Saliamo sul nostro bellissimo bolide Faremo tutta l'azione in prima persona, tranne quando guido l'aereo Perché quello in prima persona è brutto in culo Cioè, guardate Non è troppo Oh! Aspetta! Vuidare questo? Ci sta parecchio in prima persona Tipo, aspetta, cannone Oh, lì Wow Come faccio? Come si fa a cambiare arma, zi? Ah, ok Abbosto Wow, tipo posso sganciare i missili Quanto partono bene sti missili? Ok Siamo pronti per l'assalto a Forza Ancudo? Are you ready? Qua ci sono delle baldrocchie morte, ma non fateci caso Let's go Siamo pronti al decollo, signori? Arriviamo a fine pista e poi decolliamo Ok Decollati Tiriamo in dentro le ruote Si fa con G Ok E avviciniamoci a Forza Ancudo Facciamo Facciamo anche dei piccoli stanti in volo Possiamo fare un bel flip Wow I flip, quelli di qualità Quanto diventa potente il motore Quando vai verso il boss Dà l'idea di potenza, il suo rumore Comunque va avanti anche se non uccidere Eh si ma dopo un po' cade No No? Cioè ha il gusto Si si va a un bordello Ok Oh ma siamo già qua A Forza Zanculo Vabbè Ehm Eccoci arrivati Tanti insieme a cannonare potentemente il tutto Anche se è abbastanza inutile E poi proveremo a fare Un fight degli aerei Quando ci arrivano quelli militari contro Alla fine di questa operazione Andiamo ad atterrare Cioè c'è Stanna a tirar il Cristo qua eh Non è una bella situazione Dai andiamo A fondo pista E accampiamoci là Qua già Quel caccia non mi ispira troppo Come cosa Oh fuck calmo Che che è il monache Con le antiaere Cristo Ok mi stanno leggermente tirando Pure la madonna Scuso Frena lentissimo Ok Parcheggiamo il bolide Mettiamo qua Sì però dovresti anche girare In qualche modo Va bene Parcheggiamo il bolide Scendiamo Prima persona Attenzione Prima persona Aspettiamo che arrivino Delle macchine militari Tipo Gli sparo Con il cannone in bocca Sarebbe abbastanza swag Come cosa Però non stanno arrivare Vabbè Scendiamo dal bolide E prendiamo Allora Mi faccio un po' Il setup delle armi Ehm Mi metto la Il taser Le granate Mi metto le molotov Poi mi metto il combat pdv L'advanced rifle Sniper rifle Ehm Ammazza da baseball L'assault shotgun Zii tengo RPG Minigun Di queste cose cosa tengo Direi minigun Sì la minigun È potente Minigun è bellissima Sì la minigun è tremenda Non come sopporto In te vasco Sì 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 Oh mio Dio Oh mio Dio Mi ha tirato un missile in bocca Però Lo sto facendo morire l'aereo Tipo Gli sta fumando il motore Prendiamo un po' Il lanciamissi Oh Railgun Railgun È l'arma più imprecisa Che esista Ok Quell'aereo Non sta facendo troppo Un bel giro Quindi Ehi Perché non mi prende la ricerca Sto lanciamissi schifoso Vabbè Minigun 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 Voglio tirare giù col caccio Assolutamente Questi colpi Non andranno mai nella vita Segno Allora Dov'è la Ah Aspetta Ehm Ho fatto un piccolo fail Avevo lasciato Il never wanted attivo Vabbè Ecco Perché non arrivava nessuno Eccoli là i camioncini Vai voglio Mitragliarli potente Con i missili Torniamo sul Sul jet Paura che me lo faccia Nessun adere tipo In due secondi Però vabbè Quanto ci metti a salirci Sei lento in culo Ecco già Mi sta andando a tirare il Cristo Eh Ok Che cos'ho Come arma Ho gli missili Ok Sti missili fanno schifo Spara Missili devoli PAM Questo è arrivato in bocca Per guidare l'aereo Ok Madonna Sono potenti Sono a ricerca Dimmi che gli arriva Oddio No Fanno un po' schifo Sti missili Eh Si Si piantano Tipo Nel suolo Mmm Missili deboli Ok Scendiamo Dai 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 Voglio carichi Allontaniamoci dal nostro bolide Che non si sa mai Iniziamo Ad andarci Un po' di minigun Direi Madonna Quante OP Quelle lì Ho una cecchillata in bocca Non gliela leva nessuno Vio dio che flè Guardate Il no scope Spunta Troppo belli No scope Quanto l'ho mancato potente Allora tu L'ha dietro Che Cristo stai facendo PAM L'ho preso il piede potente Allora Sto caschetto Però se lo dovrebbe anche levare Sto coso Allora Voi Non dovete arrivarci qua Va bene So che non avete capito bene Mi deve esplodere la mamma Perfetto Ok Dai 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 Dove sono i nemici Ma ce l'abbiamo anche dietro Come ci sono finiti qua Muori Muori Oh ma Ancora vivo sei Ecco a cosa serve La mazza da golf PAM La mazza da golf È sciotta PAM No Con la mazza Non con i piedi Ok Mi è nato potentissimo Una mazzata nel belino Dov'è la mia cara vecchia mazza da golf Sì Alla fine Va in cielo E con i messi da ricerca Ammazzano un aereo Di grossi Non credo si possa La soddisfazione Vedendo piovere in mare Ma si può? Sto facendo in continuazione Ah Ok Passano due Massimo tre messi E volano Dai 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 Voglio Clearare l'aria Allora Tu non credo che Abbia capito per bene Uh figa le molotov in prima persona Hi dude Dove cristo l'hai tirata? Ma sei scarso allora Oh Stai prendendo fuoco Ma prendo fuoco pure io Non sarebbe piacevole E ammazza da golf E vola sempre via C'è una musichetta troppo ansiogena Eccoli dai mona Vai Riparati Non così Riparati meglio Pam Ok Me l'ha schivato bene il colpo Quel mona Allora Questo qua Gli voglio fare Uno scope Di quelli Eh non si possono fare Uno scope Del riparo Ma morite Vorrei tipo Una magnum Una revolver Qualcosa di Una pistolina potente Z Che è? De Non credo Beh La Il Markman Anche il Markman Pistol Sì Questo è potente Ma ci sta un nemico Pusha 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 Questo? Oddio Mi sa che l'ho trovato L'arma potente Pam È un fucile Di quegli antichi Sveghissimi Grazie per il vostro Schifo Allora Se questo video Raggiunge Dieci like Culo Esatto Questo video Raggiunge dieci like Facciamo la stessa cosa Proviamo a invadere Forza un cudo Senza invincibilità Senza cose varie Senza mod menu Senza full armi Quindi partendo solo Magari con Mi giveo solo un'arma E poi proviamo a prenderle Dai poliziotti E fare tutte quelle belle cose Tra l'altro Mi stanno Entrando Degli shot Illegali Col c'è Kiro Ok Andiamo Il musket Il musket È potente Allora tanto qua Direi che Ci possiamo mettere Un po' di Sticky bomb Mettiamo qua Se appena arriva Quel mona Dai Appena arriva Appena arriva E esplodono Duro proprio No 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 Riparo Non così La donna mi sta Eh la madonna Il carro armato Mi ha mandato conto Devono stare un attimo Calmi Ok minigun It's Your time Ce la farò A sfasciare Il carro armato Con la minigun No Non lo voglio sfasciare Lo voglio rubare Ok Se eviti di sparare No Non mi sparare in bocca Ok Salici Salici Da bravo Big alvery Cosa Cristo sta facendo Oh no È esploso Sì Big alvery Lo so che sono spawnati Do state Eccone uno Ti faccio Un blind Con sto coso Mancato Potentissimo Eh la madonna Che potenza Ah ma qua Le mie piccole cose Non erano ancora esplose Ok Fa un po' schifo Sto coso Datemi Oh Quanta potenza In un'arma sola Allora Quel tizio ha appena detto I'm reloading Don't fuck with me Che se sto ricaricando Don't fuck with me Mi sembra anche giusto Eh no I fuck with you If you reload Dude Sì Il piccolo shotgun Da potenza Mazza da golf PAM Perché ci va di piede Hai la mazza Da golf Non tirare il piede Tiragli la mazza No Ah l'intelligenza Ok Arrivano dei mona L'ho mancato malissimo Esplodi Esplodi pure te Perché non mi tiene lo zucco Si scaglie a pioli Squaglio ho fatto un headshot Potentissimo Do stanno Eccone Ce ne sta uno qua Allora Si Da Cristo sta sto ballone Ho fatto esplodere Un aereo E adesso con il mio aereo Mi sono incastrato Dentro la sua ala Mentre piove Ok Ok Madonna che brutto fail E mori c'è Ok Hi dude Ti blindo la face Proprio Lo blindo in headshot Andiamo a farci un giretto Hi big macchina Oh no sono tante Sono tantissime Il mio aereo in tutto ciò E' ancora là Oddio è ancora vivo Wow Vai buttati Non così Tiri le facciate al suolo Non va bene Non va bene Sei un polpo Cosa Quel tizio è una mini gun muori Anche te Te No ci vado di Di combat PDV Che non l'ho ancora usata E' potente Si Prova come arma La combat PDV Io la adoro Non è forte Però è bella da usare Si Si Categorie Quella a destra Della pistola Allora Vai Riprendo Il mio swag aereo Devo fuggire Devo tirare giù Un aereo di linea Come mi hai consigliato Te Vai E' molto semplice Vi solo essere Abbastanza esperto Nel video Ma Dai Dai ti prego Mettimela Sto terza persona Ok Decollo E' effettuato Arma Missili Missili A ricerca Vai Leftiamo da qua Un po' difficile Trovare Di linea Ora devo andare in time options Devo mettere Siamo carichi Siamo carichi Quanto sono in alto Gli aerei di linea Ma soprattutto Dove Cristo sono Oh ecco Io ne vedo un bordello Ovunque vado Ce n'è Anche vicissimi Uno all'altro Ne ha trovato uno Dai Ti tirerò giù potente Però è difficile Prenderla In modo da incrociarla Cos'è Oh un elicottero Della polizia Random A questa altezza Come? Ok Come Cristo Faccio a tirarlo giù Uno sto coso Come si tira giù? I miei missili Fanno un po' schifo Devi spararmi No no Aspetta un attimo Gli arrivano i missili E poi Dopo un po' esplode Sono esploso io Sono esploso io Ma come? Come hai fatto? Non lo so ma Vola a coso Devi volare Non voglio finire In mezzo all'oceano A caso No Devi volare Testa di qua No Problema che ho paura Di superarlo Barra di andarci dentro Come ho fatto prima Dai Dai Attaccamelo Non c'ha messi di Sì Bravo 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 Sganciagli Cristo Missile Ok No Verso il contatto Ok sta fumando Oddio è esploso Sì non è andato giuroteando È esploso Ma come? Quanto non è sparato? Una ventina Aspetta Devo cercare un altro Voglio vederlo Mentre piove felicemente È proprio Sì è smaterializzato Non è esploso Cioè Allora Devo trovare un metro Ok Con te lo vado a durare Vede È tempo che riesca Durare Durare Tirare giù Un aerosondo Poi farò anche dei togli Ok Dai Misteri cerca duridi Non funzionate Cristo è finito Oh mio dio l'ho preso Missile a ricerca funziona più che bene Eccolo che va giuroteando un bordello E ne è bastato uno Quanto sono potenti Sti missili Oh mio dio Che figo Sta andando giù Girando un casino Finiti in mare Perfetto Va bene Missione compiuta Quindi Direi che Per questo Posso definirla Posso definirla video Sì Ok Direi che per questo video È tutto E Se vi è piaciuto ovviamente Lasciate un bel like Perché Ci piacciono i like Sono riuscito proprio ad arrivare Nell'aeroporto Preciso Bellissimo Quindi Iscrivetevi Al canile E Lasciate un like Il prossimo video Sono diventato silenzioso Ciao Oh Vai missili andate di potenza Ok Questo era definitivamente scemo Unicor Zombie Apocalypse Iscrivetevi